Come avete letto dal titolo, oggi parliamo di Animali Notturni, film che ci è stato suggerito attraverso le storie di Instagram e che troviamo di una bellezza scoinvolgente. E quindi vi diamo calorosamente il benvenuto nel look di Animali Notturni. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui nuovamente sul canale. Oggi parliamo di Animali Notturni, film diretto da Tom Ford, il quale oltre a essere regista e sceneggiatore della pellicola è anche uno stilista e creative director, infatti ha fondato nel 2005 un suo brand e è stato anche creative director di Gucci e Yves Salloran. Ford per questa pellicola si avvale della collaborazione del direttore della fotografia Simus McGarvey, il quale ha firmato la fotografia di altri film come ad esempio Espiazione di Edgar Wright, che è anche l'autore che ha firmato la regia di Anna Karaneina, che è l'adattamento cinematografico del romanzo di Lev Tostoi. Per oggi siamo qui per concludere questa piccola serie, diciamo prima della pausa estiva, con Animali Notturni del 2016, che vede come protagonisti Amy Adams, Jake Gillinald, Michael Shannon e tanti tanti altri. Prima di addentrarci nello specifico sulla fotografia, sulla regia di questa pellicola, vi diamo un attimo un cenno da un punto di vista della storia di questo film. La trama parla di Susan, una gallerista, che un giorno riceve un pacco con all'interno un romanzo scritto dall'ex marito, che racconta la storia di un uomo e delle sue tragiche avventure durante una vacanza con la sua famiglia. Questo romanzo porterà Susan a riflettere sul suo passato e su alcuni lati oscuri della sua personalità. Da un punto di vista visivo questo film è molto elegante e complice anche il fatto che Tom Ford, essendo uno stilista prima di tutto, ha sicuramente maturato negli anni un buon senso estetico barra visivo da applicare poi sul campo per questo film. Infatti è arrivato da Simus, il direttore della fotografia, con una mood reel ben specifica e ricca di riferimenti che potessero essere utilizzati nella realizzazione delle immagini. Infatti all'interno del trattamento del film si possono trovare dipinti, frame, fotografie, qualsiasi cosa che potesse in qualche modo aiutare nella ricerca delle immagini. Anche da un punto di vista cinematografico, film come il conformista di Bernardo Bertolucci con Vittorio Sorare alla fotografia, oppure altri film con una componente noir al loro interno, perché anche qui troviamo un tipo di narrazione che si rifà molto al genere noir da un certo punto di vista. Di conseguenza, diciamo, l'idea di base per questo film, appunto da un punto di vista visivo, era ben chiara. Le riprese si sono svolte in due location differenti, che sono Los Angeles, la città di Los Angeles e il deserto del Mojave, sempre negli Stati Uniti. Quello che era l'intento era di raffigurare quello che Susan immagina mentre sta leggendo il romanzo. È un po' come se ci trovassimo all'interno di un film nel film. La fotografia si è sviluppata in tre diversi livelli narrativi. Il primo, quello del mondo di Susan ambientato a Los Angeles, il secondo, quello del deserto, con Edward come protagonista. E infine il terzo, dove abbiamo i momenti, diciamo, di flashback, sempre di Susan, la protagonista. Quindi, vediamo un attimo a livello di luce e colori cosa accade all'interno dei tre archi narrativi. Il primo, il mondo di Susan, come accennato all'inizio, è molto freddo, distaccato, abbiamo un ambiente quasi assettico, che non ci dice nulla. I colori giocano molto sul blu metallizzato. Questa totale assenza del colore viene improvvisamente interrotta da un momento specifico, e cioè quello in cui Susan riceve il pacco e lo sta aprendo. Ecco, nel momento in cui lo apre si taglia il dito. Il sangue è quell'elemento che dà colore a un'atmosfera fredda e assettica e che isola il soggetto. Un soggetto che si troverà poi a appunto leggere quello che c'è all'interno di quel pacco ed è un po' come se fosse un simbolo di sventura, dato che poi la tormenterà per il resto del film. Questo isolamento, inoltre, è intensificato dal rapporto che ha con l'attuale marito. Con lui ha una relazione che è anch'essa distaccata, quasi non si parlano praticamente mai perché lui è spesso fuori per lavoro. Nel secondo livello narrativo, quello ambientato nel deserto del Mojave, le luci e i colori giocano un ruolo esattamente opposto a quello che troviamo nelle ambientazioni losangelesche. Qui i colori sono molto più vividi, molto più accesi, molto più caldi, si respira proprio un'atmosfera quasi soffocante. C'è un momento che è ambientato invece di notte, di un inseguimento. Ecco, lì si gioca molto con delle ombre molto forti e marcate, come se i soggetti o comunque gli elementi che troviamo all'interno del campo venissero fuori dalla penombra. Ed è un po' come se quasi lo spettatore o anche il protagonista stesso non capisse cosa stesse succedendo o comunque con chi ha a che fare, proprio per questa illuminazione molto scarsa che è giocata tutto sulla penombra, quindi su scuri molto marcati. E infine le luci e i colori che troviamo all'interno del terzo livello narrativo, e cioè quello dedicato ai flashback nostalgici di Susan, sono molto più accesi e illuminati, anche vivaci. Abbiamo una forte correlazione tra toni freddi e toni caldi, un po' per trasmettere un mood gioioso e se vogliamo anche speranzoso agli occhi di Susan. Le immagini quindi sono molto più morbide per trasmettere un'atmosfera più leggera e ottimista. Parliamo inoltre di un altro elemento che arricchisce l'argomento della fotografia nel cinema, che sono i movimenti di macchina. I movimenti di macchina che troviamo all'interno del mondo di Susan, ambientato a Los Angeles, sono quasi assenti. Le inquadrature sono prevalentemente statiche, dove abbiamo un'ambientazione che incornicia la protagonista all'interno di questo ambiente freddo, tutto ben organizzato ed elegante anche. Nell'arco narrativo, dove abbiamo il personaggio di Edward nel deserto con Michael Shannon e altri protagonisti, anche qui le immagini sono prevalentemente statiche, abbiamo pochi movimenti. L'unici movimenti che troviamo sono in un momento specifico che non riveleremo quale, dove lì abbiamo tanta macchina a mano. A tratti non si capisce bene cosa sta succedendo, proprio perché si respira un'atmosfera instabile, di confusione e questo permetteva anche agli attori di improvvisare di più i movimenti del corpo. Infine, evolgendo uno sguardo verso la parte tecnica di questo film, il film è stato girato in pellicola a 35 mm su macchina Panavision Millennium XL2, che se vi ricordate è la macchina che hanno usato per girare The Lighthouse, che ovviamente se non avete ancora visto vi lasciamo qui sopra il link nel caso vogliate andarlo a recuperare. Fidatevi che anche quello è molto interessante. E come ottiche invece Simus si è rivolto verso un kit di Panavision I versione sferica. Bene, questa era un'analisi riguardo il film Animali Notturni del 2016 di Tom Ford. Vi consigliamo caldamente di andarlo a recuperare nel caso non l'abbiate visto. Io vi ringrazio per aver visto anche questo video. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, un commento riguardo circa questo video o il film in generale, se volete esprimere qualche opinione. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci prendiamo una piccola pausa estiva per il mese di agosto e ovviamente riprenderemo poi a settembre con altri video, altri cinelook che scommetto che a molti di voi interesseranno. E quindi non mi resta che augurarvi un buon weekend e noi ci vediamo ovviamente a settembre. Ciao a tutti! Grazie a tutti!